E' partita anche la finale degli 800 metri under 20, otto i concorrenti, lo ricordiamo Il gruppo è appena rientrato in corsia, gruppo ancora compatto Riteniamo al passaggio ai 400 metri, potremmo filare le prime proiezioni Il gruppo è appena rientrato in corsia, gruppo ancora compatto Il gruppo è appena rientrato in corsia, gruppo ancora compatto Quindi per l'assegnazione del titolo di campione svizzero degli 800 metri under 20 Vedremo se Tobias Lutti saprà conservare il comando Pronti, in questo momento c'è un avvicinamento al vertice Vediamo che il ticinese Stefano battaglia nelle prime posizioni Stefano battaglia ha assunto il comando delle operazioni a 200 metri dal traguardo Apprestiamoci ad accogliere i concorrenti con un bel applauso Sono ormai in addirittura d'arrivo Vediamo Stefano battaglia davanti Stefano battaglia per la vigora di corretto Vittoria quindi per Stefano battaglia per la vigora di corretto Nel tempo di 1 cento